Musica Questa mattina si è tenuto a Palazzo Alemanni a Catanzaro un incontro al quale ha preso parte anche Gazzio Loiero. Il Presidente della Regione Calabria ha presentato alla stampa un importante convegno organizzato dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale che si terrà alla mezza terme il prossimo sabato 4 aprile. Alla conferenza hanno partecipato il segretario regionale Bruno Cristiano ed il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute Andrea Guerzoni. Nell'incontro si è sottolineata l'importanza della figura professionale del medico di medicina generale in un momento in cui l'invecchiamento della popolazione e l'immigrazione hanno comportato un cambiamento delle patologie che hanno visto diminuire il numero delle malattie acute e progredire quelle croniche. In un quadro sanitario nettamente in difficoltà dal punto di vista economico l'impegno della Regione potrebbe costituire un importante volano di ripresa dell'intero settore imponendo un cambiamento di rotta nella diversificazione delle cure.